Buongiorno a tutti, ben ritrovati per chi c'era anche ieri, benvenuti per chi è venuto solo oggi, sono Mauro Mariuzzo e parlerò di OSGI. Cosa pensiamo, vi do del tu, cosa pensi quando dico la parola modulo? Beh, per noi maschietti magari modulo, modulo del gioco, gioco del calcio, liberi scheme. Se partiamo invece di qualcosa di più tangibile, ci può venire in mente il modulo lunare con cui siamo andati sulla luna, ci può venire in mente anche un processore, che comunque è un modulo che si inserisce all'interno di una qualsiasi scheda grafica, o delle capsule da caffè, sono piccoli componenti fatti in serie o comunque modulari. Cos'è un modulo nel software? Nel software un modulo è comunque un pezzo di programma, un pezzo di software che svolge un compito ben preciso, ben particolare. E può svolgerlo da solo, o comunque essere usato da solo, oppure può essere collegato ad altri per realizzare qualcosa di più grande all'interno dello stesso programma. E' comunque qualcosa di riutilizzabile. Facendo il paragone rispetto ai moduli che abbiamo visto prima, io per avere una capsula non è che vado dal signor Nestlé a dire guarda, ho bisogno di una capsula fatta in questo modo. Le prendo perché sono fatte in serie, così come anche per le CPU. Non vado da Intel a dire, avrei bisogno di una CPU, parliamone quanto mi costa. Sono già realizzate ed eventualmente potrei prendere una CPU fatta da un altro produttore che si adatta alla stessa piattaforma. Perché abbiamo bisogno di moduli? Se prendiamo il Boeing 747, che è un grande aereo, è composto da circa 6 milioni di componenti, tanti cavi, tanti tubi. Così come anche una nave è fatta da tanti pezzi assemblati. Il progetto del Boeing, tanto per essere precisi, è composto da circa 7500 disegni tecnici, sono 7600, realizzati da migliaia di tecnici circa 50 anni fa. Sono tanti bei disegni tecnici messi uno in fila sopra l'altro. E' impensabile che tutti questi disegni tecnici fossero fatti da un'unica persona o gestiti da un'unica persona. Anche nel software è impensabile che una singola persona faccia tutto, perché il software è composto anche lui da tante cose, quindi anche lui è abbastanza complesso. Qui vediamo una sequenza di elementi ordinati per linee di codice. Partiamo dalle 500 mila dello Space Shuttle, alle 45 milioni di Windows XP. Per Windows XP intendiamo il kernel, un po' la parte grafica e qualche driver, più il solitario e il notepad. Sono 45 milioni di righe di codice. Windows 7 ha portato un grande risparmio di 5 milioni di righe di codice. Google, inteso come tutta la piattaforma Google, Google Drive, Gmail, Google Play, Google+, sono circa 2 miliardi di linee di codice in un unico repository per circa 18 terabyte di informazioni. Ok, moduli, ma io già uso i moduli, sono un programmatore e già li uso. Uso l'SVN e l'SVN è gestito a moduli, che sono le cartelle. Uso Git e Git è gestito a moduli all'interno del repository. Poi uso gli strumenti di sviluppo, Ant, Maven, e anche loro hanno il concetto di modulo. Maven, ad esempio, chiama i progetti un modulo. Fermiamoci un attimo su Maven. Su Maven i moduli hanno un nome e una versione. E pochi ricordano, o comunque spesso dimenticano, molti spesso dimenticano, che il nome del modulo è indipendente dal nome dell'artefatto che ottengo. Sono due cose separate. Peccato che molti tool, ma anche noi, quando li usiamo, cerchiamo, ce ne dimichichiamo, e pensiamo che siano la stessa cosa. L'altra cosa noiosa nel mondo Maven è che se una cosa non esiste nel Maven Central, se un progetto non è nel Maven Central, non esiste. Ho bisogno di una libreria bellissima per fare un parsing di un JSON, per completare il mio programma, non c'è su Maven Central, non esiste. Ma in realtà potrebbe esistere da un'altra parte, e potrei comunque usarla. Perché parlo di Maven Central? Perché è il concetto di ricerca del modulo. Poi io sono un programmatore, ma sono stato anche bambino, e da bambino io già usavo i moduli. I Lego, i famosi mattoncini Lego, sono il gioco più ingegnoso al mondo, perché hai un piccolo pezzettino, e combinato assieme fai tante cose bellissime, come, siamo nell'epoca di Star Wars, dovrebbe uscire fra poco, Millennium Falcon e Derta Destructor, non mi ricordo come si chiama. Però, se prendiamo i moduli nel mondo reale, esiste il cosiddetto problema Ikea. Voi andate all'Ikea, prendete una scatola, abbastanza compatta, la portate a casa e dovete ottenere la libreria. Ora, è vero che il problema Ikea è un po' drammatizzato qui, perché in realtà i testelli ci sono tutti, e le istruzioni, si spera, siano fatte giuste in italiano. Però spesso la versione più corretta è quella in inglese, o in svedese, o in norvegese. E come risolvere il problema Ikea? Si risolve con un'unica modalità, la forza bruta. Come diceva sempre qualcuno, con abbastanza tempo e abbastanza denaro, tutto è possibile. Qualcuno, che aveva tempo e forse anche denaro, ha deciso di realizzare una casa fatta di Lego. Ci ha messo due settimane, non era da solo, sono circa 1200 persone che hanno pazientemente usato 3 milioni di pezzettini Lego e hanno fatto sulla casa. Il problema è che i moduli da soli non sono abbastanza. Prendiamo Maven Sentral, che ho citato prima. Maven Sentral è un enorme contenitore di Lego. Ci sono tantissimi moduli. Ma sono senza istruzioni. Non ho le istruzioni d'uso. E oltretutto faccio anche fatica a cercarli perché non so che come, non ho diversi modi di ricerca. gestire progetti complessi può diventare difficile nel momento in cui io non so quale pezzo prendere e non so come trovare il pezzo che mi serve. la conseguenza di questo non sapere è che o mi scoraggio ed evito di implementare la funzionalità o la rifaccio da capo, reinvento la ruota. Magari non in maniera così efficace ed efficiente come chi l'ha già fatto. Come dicevo, la ricerca per nome non è sufficiente. perché moduli è una cosa, modularità è tutt'altro. La modularità è un approccio, è una regola, è un modo di fare coordinato e controllato. Perché i veri moduli, nel rispetto della modularità, possiedono un contratto che descrive le aspettative sia del modulo, sia di chi deve usare il modulo. Come dicevo, il modulo deve autodescriversi, deve dire di che cosa ha bisogno e che cosa fornisce. Facciamo un esempio, abbiamo un jar, che spero tutti conoscono nel mondo Java è una libreria, e all'interno del jar, e il jar dovrebbe indicare il suo numero, il suo nome, quindi il nome del modulo, non del jar, la versione, tutte le dipendenze, tutti gli altri moduli di cui ho bisogno, nella versione di cui ho bisogno, tutte le funzionalità che io espongo, nella versione con cui le espongo. Se prendiamo un jar e ci aggiungiamo tutto questo, otteniamo un bundle OSGI. Quindi il bundle OSGI, altro non è che il mio modulo con il manuale di istruzioni. quindi il mio modulo sa, in maniera abbastanza precisa, dove collocarsi all'interno di qualcosa di più grande. O comunque, come in un puzzle, il modulo accanto sa che ha bisogno di quel pezzo, e non di un altro. Quindi, la modularità mi dà benefici, che ho elencato qui. Quindi c'è un assemblaggio facilitato del componente. Costruisco qualcosa di più grande, utilizzando dei mattoncini, abbinandoli correttamente. e quindi, qui c'è un tecnicismo che è class not found exception, un mattoncino non può dire guarda che il mio compagno non manca, perché se ho creato il modulo, ce l'ho. Ed esiste anche un concetto di disaccoppiamento. Io sto realizzando qualcosa che ha bisogno di un altro mattoncino, poiché lui dichiara esplicitamente che cosa mi fornisce il contratto. Quando io onoro il contratto, so che si parleranno. I due moduli possono essere fatti da team diversi, da team che non si conoscono. L'unica cosa che devono conoscere, entrambi, è il contratto. Il contratto, poi, mi dà anche la possibilità di garantirmi un futuro. Non mi piace come espressione, però rende l'idea. Perché? Perché il contratto stabilisce delle regole. Nel mondo normale, reale, se compriamo la casa, abbiamo il contratto di acquisto della casa, che deve rispettare determinati leggi, determinate formalismi. Nel contratto dei moduli, il formalismo dichiarato riguarda anche il numero di versione. Quindi, ci accordiamo sul fatto che la versione dalla 1.0 alla 2.0 del mio contratto stravolge l'API. quindi so che se io di un modulo stavo usando la versione 1.0, poi il team rilascia di quel modulo la versione 2.0, io so che probabilmente il mio codice sarà incompatibile. E quindi dovrò fare un certo lavoro di adattamento. mentre se quel modulo passa dalla versione 1.1 alla versione 1.2, abbiamo concordato, stabilito, che in realtà tutti i cambiamenti fatti sono retrocompatibili. Quindi le API vengono deprecate, ma non rimosse. Ci saranno nuove API, ma le vecchie continuano a esistere. Quindi, se io consumavo le funzionalità esposte, continuerò ad usarle anche se quel modulo avanza di versione. Ovviamente, se io sono un implementatore di quel contratto, non un fruitore, un implementatore, dovrò implementare quelle nuove funzionalità. Da qui la mia precisazione, il provider deve in qualche modo adeguarsi. Ultima regola, nel momento in cui cambia il terzo numero, quindi passo dalla 1.0.0 alla 1.0.1, questo cambiamento di versione è un backfix. Quindi non cambiano le firme dei metodi, non ci sono metodi nuovi, sono soltanto correzioni di funzionamento, le quali, tra virgolette, possono comunque richiedere un regression test, perché se il mio codice funzionava in un certo modo grazie al bug, che per me il bug era una feature, hanno risolto il bug e mi hanno tolto la feature. Quindi, chi utilizza l'API può tranquillamente accettare un intervallo di versioni, rispettando questo contratto. Tutto questo si chiama semantic versioning, o versionamento semantico. E quindi io posso accettare che i miei moduli vadano avanti senza preoccuparmene. O comunque, so che stanno lavorando alla 2.0, io posso continuare a vivere sulla mia 1.0 e nel frattempo attendere e fare anch'io la versione 2.0. Però intanto, continuiamo a parlarci, nessuno si rompe. L'altra cosa importante è che attraverso degli strumenti inseriti anche all'interno di Liferay, del mio SDK, questi strumenti analizzano il codice e verificano se ci sono stati dei cambiamenti, quindi automaticamente incrementano il mio numero di versione. Automaticamente mi impediscono di produrre un artefatto se non ho aggiornato il numero di versione. perché il semantic versioning è una regola nella compila. L'altro aspetto della modularità è il disaccoppiamento. Quindi, come riesco a prendere due elementi separati e portarli vicini e farli lavorare assieme? Abbiamo detto prima che devono rispettare il contratto. Ok, ma nel codice io se voglio utilizzare una funzionalità devo chiamarla, devo invocarla. Quindi faccio un nuovo oggetto, dammi un nuovo oggetto, oppure utilizzo un factory che mi dà gli elementi. Chiedo scusa ai non tecnici in sala per questi tecnicismi. La risposta a tutto questo, a come fare a gestire il disaccoppiamento di queste funzionalità, quindi fare in modo che possono provenire da fonti esterne, ma comunque essere assemblati assieme, è microservices. Quindi io prendo la mia macro funzionalità e la riduco in piccoli pezzettini, in microservizi che onorano un contratto e quindi poi vengono accoppiati a runtime nella mia architettura finale. Microservices, tutto così semplice? Sì, è tutto così semplice, perché è una tecnologia comunque non nuova, esiste da un po', sono snelli, sono facili da realizzare e possono essere implementati in diverse modalità. Attualmente la modalità più semplice e facile di implementazione è la gestione in VM, quindi tutti vivono all'interno della stessa. JVM. Però i framework SGI permettono anche di poter invocare microservizi remoti, quindi extra JVM. come posso ottenere questa funzionalità? Quindi come possono i microservices potersi utilizzare? Si possono utilizzare perché il framework prevede un registro, quindi tutti i servizi si registrano in un'unica directory. la prima slide di Brian era Yahoo, il vecchio Yahoo con la parte delle directory. Ecco, quello è il registro. Ogni elemento di quella directory di Yahoo è un microservices. ognuno si espone col contratto quindi ognuno si registra, ognuno si fa censire e quindi lo posso trovare. Quindi, riassumendo, la modularità, il vero approccio modulare è la strada per gestire i progetti grossi, perché è il modo per scomporre il problema in sottoproblemi fino ad arrivare al problemino piccolo. Come dicevo ieri, una montagna si scala un passetto alla volta. Nessuno di noi realizza progetti monoliti, complessi, intenzionalmente. C'è stata anche l'inizio di una slide di Brian. Inizia, inizia a sviluppare, il progetto cresce e alla fine ti trovi un pachiderma. Allora che fai? Lo prendi e cominci a spacchettizzarlo, a farlo più piccolo. Con che cosa? Ovviamente con gli strumenti giusti e l'ifrey 7 avrà questi strumenti. Però il consiglio che dà l'ifrey basandosi sull'esperienza che si sta facendo, che ci stiamo facendo su l'ifrey 7 è che non devi aspettare troppo. Cioè, non aspettare che diventi enorme per segmentarlo. Quando capisci che la cosa comincia a crescere, allora iniziamo a spacchettizzarla. Perché altrimenti non sarà il bel dolce che ti eri immaginato all'inizio. La domanda è che voi mi fate ma perché parli di modularità? Perché l'ifrey ha deciso di diventare modulare? E soprattutto perché noi dovremmo adottare la modularità come metodologia di sviluppo, come metodologia di analisi, come metodologia di business. Per un semplice motivo, per essere veloci. Perché e mi riprendo un'altra slide fatta da Brian all'inizio, gli acquisti online, quindi il tempo che noi passiamo online aumenta sempre di più, diventa sempre più elevato e quindi la gente utilizza le applicazioni e dobbiamo ingaggiare il nostro target. e quindi dobbiamo reagire in fretta ai mutamenti del mercato, alle esigenze delle persone, dei nostri clienti. Ora, farlo con un monolite non è così facile, non è così semplice. Farlo agendo su qualche modulo è sicuramente più agevole. Perché se adesso per realizzare una nuova funzionalità o un nuovo sito che abbia anche qualcosa di accattivante che catturi il cliente, ci mettiamo mesi, che è comunque un tempo limitato, magari il tempo business che ci è concesso è una settimana, è un giorno, lo voglio per domani. Perché domani c'è l'evento che mi interessa. Se me lo dai dopo domani, ciao, ho perso il cliente. e la domanda è come possiamo bilanciare i tempi tecnici di sviluppo con i tempi di innovazione e tenere tutto sotto controllo, evitare derive del nostro sviluppo, del nostro progetto. beh, la natura che ci circonda ci dà diversi esempi, ovvero la natura già di suo prende i problemi grossi e riduce i problemi piccoli applicando, ripetendo pattern. e l'ho detto prima all'inizio, anche noi abbiamo imparato dalla natura, abbiamo creato i Lego che come piccoli componenti ci permettono di creare soluzioni fantasiose. Ok, microservices per tutto purtroppo no. Purtroppo no, non nel senso negativo del termine, ma perché i microservices sono un aspetto che riguardano solo una parte del mondo coperto dall'ifray, del mondo ricoperto da un portale web. Quello che rimane fuori, i microservices sono per il back-end, ma per la user interface. Anche su questo ci stiamo muovendo. stiamo esplorando nuovi linguaggi modulari, nuove interfacce, nuove modalità di concepire l'interfaccia in modo modulare. C'è il material design, c'è l'atomics design, dove anche in questo caso si parte dall'atomo per arrivare alla pagina finale, dove l'atomo è il microservizio di back-end, poi c'è la molecola che è l'aggregazione del microservizio di back-end, poi abbiamo l'organismo che è l'assemblamento anche con la parte visuale, poi abbiamo il template, poi abbiamo la pagina vera e propria. Quindi, anche sul lato front-end si sta cercando di creare un approccio modulare. e su questo javascript anche lui si sta muovendo perché è uscito emascript 2015, il vecchio nome era emascript 6, che introduce il vero concetto di modularità all'interno di javascript. Quindi, anche il linguaggio di programmazione per eccellenza del front-end javascript diventa modulare. Quindi, gli aspetti chiave della modularità back-end e front-end sono quelli citati qui. Creare indipendenza, consentire l'indipendenza di sviluppo del deploy e dell'evoluzione. Piccoli mattoncini che evolvo. Combinarli e semplificare la combinazione, riutilizzare sapendo che poi posso riutilizzare anche egevolando la personalizzazione perché magari il mattoncino che vi prendo non mi piace così, è giallo e lo voglio far diventare rosso. Devo poterlo personalizzare senza stravolgerlo troppo. Quindi, queste sono le sfide portate dai non portate da sfide che l'ifray con l'ifray 7 ha deciso di intraprendere e di vincere. perché l'ifray services usa i microservices sono in VM c'è il registro e li puoi customizzare. L'ifray 7 consente di farvi sviluppare con emac script 2015. Nessun browser oggi supporta emac script 2015. L'ifray lo sa. Voi sviluppate in emac script 2015 l'ifray lo converte nel javascript di oggi. Domani uscirà emac script 2015 benissimo l'ifray non converte più niente e girate normalmente. Quindi sviluppate adesso per qualcosa che arriverà nel futuro ma vi portate avanti. E l'ifray 7 anche dal punto vista dell'interfaccia permette di generare e creare componenti modulari per costruire meglio la vostra interfaccia. Quindi l'ifray sa che innovare è difficile. Ha iniziato da due anni questo approccio al cambiamento ha effettivamente verificato che è difficile e quindi vuole essere la tecnologia vostra alleata per il passaggio a vostra volta alla modularità. Marco citava che l'ifray 7 è un porto sicuro. Sì, è un porto sicuro perché noi abbiamo navigato le acque prima di voi abbiamo capito dove sono le secche dove ci sono le tempeste e quindi possiamo guidare al porto sicuro. Con tre minuti di ritardo vi ringrazio per avermi ascoltato. grazie a tutti. Grazie a tutti. grazie a tutti. Grazie a tutti.